Ciao a tutti, ci sono storici che raccontano la storia dei grandi eventi, grandi eventi politici, la rivoluzione francese, la prima guerra mondiale, ma ci sono anche degli storici che cercano di farci capire quale fosse l'esperienza della vita nei secoli passati. Nel corso degli anni ho letto cose molto interessanti, sono andato a sentire lezioni anche di storici molto famosi, su per esempio gli odori che si potevano sentire girando per la città di Roma durante gli anni dell'imperatore Nerone, oppure su lavarsi e farsi belli nel medioevo, una pratica quotidiana che per noi è tanto normale ma che allora era guardata con sospetto perché troppo attenta al corpo si diceva e meno all'anima. Voi sapete che la seduzione per amore e l'amore fino a se stesso, l'amore fino a se stesso erano considerati un peccato al tempo. Sono cose interessantissime che mostrano come quella che noi chiamiamo la civilizzazione si è creata nel corso dei secoli. L'esempio più classico che di solito si fa è quello delle posate a tavola che fino al 6 al 700 non è dato per scontato sia sulle tavole dei re sia sulle tavole dei poveri. La storia degli odori, dicevo, è molto interessante perché oggi noi nelle nostre città sentiamo l'odore dell'inquinamento, dell'asfalto e prima magari che arrivasse la raccolta differenziata l'odore dei rifiuti nei cassonetti o di quegli angoli dove ancora qualche disgraziato va a fare la pipì. C'è però una poesia di Giuseppe Parini, che è il nostro più grande poeta del 700, che si intitola La salurità dell'aria, scritta intorno al 1759 circa, che ci dà un'idea di come dovesse essere allora Milano. Intorno alle città c'erano le risaie e le cosiddette marcite, che erano delle distese di erbe lasciate a macerare e poi date da mangiare ai cavalli che allora, come sapete, erano l'unico mezzo di trasporto, erano un po' come la benzina oggi. I stessi cavalli, dice Parini, che coprivano letteralmente le strade, alcune delle quali erano ancora di terra, con i loro escrementi. Pensate che cosa volesse dire attraversarle nei giorni di pioggia. Come se non bastassero le strade piene di lettame, gli abitanti versavano i loro bisogni, quindi feci urina, detta proprio così, in strada. La sera poi passavano dei carri, le cosiddette navazze stercorarie, dei carri scoperti a raccogliere quegli escrementi e a portarli fuori città. Pensate dunque che cosa dovesse essere una città grande, una, potremmo definirla persino metropoli per i tempi, come Milano e quale dovesse essere il suo odore. Queste cose mi hanno sempre interessato perché, come studioso di un'epoca storica, nel mio caso l'Ottocento, non mi sono mai fermato alla letteratura, che ha tutti gli effetti il mio terreno d'indagine, ma ho sempre voluto avere un'immagine più a tutto tondo del secolo, di come vivevano le persone, della loro esperienza del quotidiano, della vita di tutti i giorni. E proprio pensando agli odori dell'Ottocento, di recente ho scoperto che di quel secolo c'è ancora traccia in alcuni profumi che oggi troviamo nelle nostre profumerie. Ci sono tanti profumi ripresi dall'Ottocento, ripresi, riformulati, rifatti, magari alcuni che prendono anche solo il nome, ma questi due sono speciali perché sono ancora uguali, hanno lo stesso odore e soprattutto perché la loro produzione non si è mai fermata. Sono sempre, sempre con noi, ci hanno sempre accompagnati nel corso delle guerre, nel corso di tutti i rivolgimenti storici che ci sono stati da allora. Dicevo sono due quelli che ho ritrovato, è probabile che ce ne siano anche altri. Uno di questi è un'acqua di Colonia che oggi è in commercio con il marchio di Roger Gallais, eccola qua, guardate, che è diventato praticamente il profumo standard dell'acqua di Colonia. Questa bottiglia che ho in mano è quella del profumo usato oltre che da Napoleone e buona parte da sua moglie, da Goethe, da Gandhi, da Romy Schneider, l'attrice che faceva Sissi nei film famosissimi, e fu lanciata nel 1806. L'altro invece, eccolo qua, ce l'ho qui in mano, è il primo profumo unisex della storia, come vedremo anche il primo profumo astratto, poi vi spiegherò, Gicchi di Guerlain, creata nel 1889. Il profumo di Sean Connery, di Brigitte Bardot, di Jacqueline Kennedy, di Serge Gainsbourg e di altri. Tutti e due i profumi, mi sembra, furono lanciati in anni memorabili per la storia dell'Occidente, mi sembra quasi fatto apposta. Partiamo da questa, che si chiama Acqua Jean-Marie Farinat. È il 1806, siamo nel pieno dell'epoca di Napoleone Bonaparte, che nel 1804 è stato dichiarato imperatore dei francesi, nel 1805 re d'Italia. Nel 1806 Napoleone sconfigge il re di Napoli e di Sicilia, Ferdinando di Borbone, e al suo posto nomina re di Napoli suo fratello Giuseppe Bonaparte. Quell'anno a Giovanni Maria Farina, un italiano che si è trasferito a Parigi, da Santa Maria Maggiore, che è un paese della Val d'Ossola, in quella parte d'Italia che si incunea tra il Lago Maggiore e il Canton Ticino, ha ereditato dalla famiglia la ricetta di un'acqua prodotta nella città di Colonia, in Germania, da un altro profumiere italiano, sempre della stessa zona, che si chiamava Giovanni Paolo Feminis, e decide di metterla in commercio e apre una profumeria nel pieno centro di Parigi, in Rue Saint-Honoré, e ha un successo così grande che due anni dopo, nel 1808, viene il fornitore ufficiale dell'imperatrice Giuseppina, la prima moglie di Napoleone, che allora era imperatrice di Francia e regina d'Italia. Oggi noi, come vi dicevo, possiamo comprarla ancora con il marchio di Roger Gallais, dai nomi dei due industriali francesi che nel 1862 poi comprarono la formula e la commercializzarono con il nome che è ancora oggi, Eau de Cologne Extravieille, cioè extravecchia. Oggi il marchio di Roger Gallais è dell'Oreal, che l'ha rilanciato. Che odore ha? Beh, il classico dei classici, si apre con bergamotto, limone, arancia. Poi continua con il petit grain, che è un olio ricavato dall'arancio amaro e va avanti con rosmarino, fiori d'arancio, rosa. E poi sul fondo abbiamo, si sentono molto, anche chiodi di garofano, il mirto, cedro e alla fine delle note molto lontane di sandalo, ambra, muschio. Questo oggi è forse un odore un po' ingevo, buono, ma non così raffinato come quello dei profumi che possiamo trovare in profumeria oggi. Però è stato l'odore che per tanti anni hanno avuto imperatori e uomini di Stato. E andiamo da una parte all'altra del secolo. Al 1889, che è un anno importantissimo per la Francia, perché in marzo viene inaugurata la Torre Eiffel ed è anche il centenario della rivoluzione francese. Uno dei profumieri più famosi al mondo in quel momento è Aimée Guerlain, che è ereditato dal padre l'azienda di famiglia nata nel 1828 ed è in quell'epoca fornitore di profumi di re e regine di mezzo mondo. Ancora oggi la regina Elisabetta usa un profumo di Guerlain, lo stesso da quando era giovane, ed è un profumo uscito nel 1921. Nel 1889 siamo nel pieno della Belle Epoque e Aimée Guerlain ha deciso questa volta di sperimentare con delle essenze artificiali. Non è il primo profumiere a farlo. Nel 1882 la casa parigina Hubigan, che esiste ancora, aveva prodotto un profumo da uomo chiamato Fougère Royal ed ebbe un successo così grande, nel profumo dello Zara Alessandro III, che quel nome Fougère oggi si usa per una famiglia olfattiva di profumi che sono costruiti proprio su quelle notte di base. Cos'è un Fougère? Fougère in francese è la felce, che in realtà non c'entra niente. Si tratta di una famiglia di profumi che hanno un odore fresco, amaro e un po' pungente allo stesso tempo, ottenuti mescolando vari tipi di legno, muschio, bergamotto e lavanda. E May Guerlain quell'anno decise di fare un profumo simile e creò un vero cocktail di odori, limone, bergamotto, geranio e lavanda, mente assenzio, gelsomino e rosa e poi sandalo, cannella, pacciuli, fava tonca, insieme anche ad alcune essenze animali che oggi sono vietate, ossia il muschio preso dalle ghiandole caudali del cervo e lo zibetto, una roba di cui non voglio immaginarmi l'odore perché è la secrezione delle ghiandole perianali di un povero animale che vive nell'Africa centrale e che si chiama proprio zibetto. A tutto questo, che fin qui sarebbe poi anche un profumo normalissimo, Guerlain buttò dentro appunto le essenze artificiali. La prima è la cumarina, che è un composto sintetico che ha un odore simile a quello dell'erba tagliata, dell'erba appena tagliata. E poi mise anche una valanga di etilvanillina, che altro non è il nome chimico della vanillina per i dolci, quella che usiamo noi in casa tutti i giorni. E Emet Guerlain fu il primo a usarla in un profumo e quando lo si spruzza oggi si viene veramente avvolti prima da una botta di limone e lavanda e poi pian piano arriva questo odore quasi, oserei dire, di bavarese. I Guerlain chiamarono questo profumo Giki, l'abbreviazione di un nome che può essere sia da donna sia da uomo. Il suo bouquet fu una sorpresa tale che cominciò a essere usato effettivamente sia dalle donne sia dagli uomini. E fu anche il primissimo profumo a essere chiamato con un nome proprio. Il primo profumo che non dice niente di ciò che c'è dentro, che non descrive, il cui nome non descrive niente e nessuno. Non sapete che cosa aspettarvi fino a quando non lo sentite. È veramente il primo profumo astratto della storia, per dire così. E solo nel 1921 Chanel riuscì a raggiungere lo stesso successo con il numero 5. E proprio da Giki, il nipote di Eme, Jacques Guerlain, partì per produrre il grande concorrente del numero 5. Che cosa fece? Non contento, aggiunse a Giki un'altra sbalangata di vanillina con qualche altro ingrediente, ma soprattutto tanta vanillina per creare il profumo che oggi è probabilmente il simbolo di Guerlain, Chalimar, che a sorpresa è ancora uno dei profumi più venduti al mondo. Oggi Shiki sembra veramente un budino alla vaniglia con una lotta leggermente amara dietro che tiene a bada la dolcezza. E l'ultima formulazione è quella che si avvicina di più all'originale. Per legge fortunatamente è vietato adesso usare prodotti animali per fare i profumi. E con gli ultimi progressi della chimica Guerlain ha detto di essere riuscito ad andare il più vicino possibile alla vecchia ricetta, quindi all'odore originario di questo profumo. È uscito proprio in questi ultimi giorni per Einaudi un libro bellissimo che si intitola Gli oggetti morti, scritto da un grandissimo esperto di internet che si chiama Massimo Mantellini, dove si parla della fine che hanno fatto oggi per esempio le cartine stradali della Michelin, la macchina fotografica, i giornali, le penne stesse, la carta da lettere. Ecco, questi due vecchi profumi sono due oggetti che secondo me non vogliono morire, non perché i profumi siano destinati a morire, anzi è esattamente il contrario, ma mi affascinano perché sono un filo legato da qualche parte in un momento della storia che non è mai stato tagliato e che arriva fino a oggi. Grazie ancora per avermi ascoltato.